Siamo qui con Roman Tatumirak, presidente della squadra ucraina che oggi ha conquistato il passaggio ai quarti di finale. La prima volta non potevamo capire, non potevamo capire, non potevamo capire e non potevamo capire. E poi per il secondo tempo, per la prima volta non potevamo capire, non potevamo capire. Non è vero, non potevamo capire, non potevamo capire, non potevamo capire. La squadra Albania, la squadra per la prima volta, non potevamo capire, non potevamo capire, non potevamo capire, non potevamo capire. Non potevamo capire, 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 non potevamo capire. Siamo molto piacere con la squadra, con la squadra e l'arbitrazione. Grazie, andiamo al quattro finale. Allora, allora è questo, che situazione è questa? Che prima tempo noi abbiamo avuto l'occasione tantissimi. Due, tre, sì, fortuna, Dio, segnava, finiva 3-0. Però loro stanno lamentando che l'arbitro di qua e di là è giusto, l'arbitro perfetto, la squadra perfetta. Noi ringraziamo la squadra Albania, quella che ha fatto. Purtroppo l'occasione è ucraina, i nostri giocatori, grazie alla nostra squadra, che noi siamo avuti tantissimi. e per questo, diciamo, il primo tempo è leggero, però non andava, il padrone non andava. Però al secondo tempo siamo creati in altra situazione, creati di possibilità di tirare e alla fine è uscito Go. Adesso sognare non costa nulla, siete tra le otto squadre più forti di questo torneo. L'anno scorso siete andati vicino a conquistare appunto il torneo, la finale. Quest'anno c'è già un obiettivo o guardate di volta in volta e, diciamo, l'importante, la cosa principale è divertirsi? Ecco. In questo anno abbiamo il terzo posto, ciò che vogliamo fare in questo anno, ciò che vogliamo vedere. ciò che vogliamo fare in questo anno, ciò che vogliamo fare in questo anno, ciò che vogliamo fare in questo anno. ciò che vogliamo fare in questo anno, ciò che vogliamo fare in questo anno, ciò che vogliamo fare in questo anno. e andare in finale. E poi, non si sa, quest'anno è importante che noi andiamo in finale e per tutto il nostro popolo ucraino, risolviamo per i nostri soldati che combattono con quelli, non dico parolasci, con il nostro popolo che soffre questo momento su guerra, su morti, su tutto quanto. Addirittura voglio ringraziare i vostri arbitri, il popolo italiano, il paese vostro che ha organizzato questo bellissimo torneo. E noi andiamo avanti e vediamo, poco parole, non è finita, ancora due partite importanti, la prossima partita contro Brasile e quella è fondamentale. Però il nostro obiettivo è il finale, dare al popolo ucraino che noi siamo vinti. Questo è il nostro ringrazio al popolo ucraino. Grazie. Grazie mille.